Dogecoin, Shiba Inu, memecoin in generale. In questo periodo, già da un po' in verità, tutti ne vanno pazzi. Addirittura ho scoperto, grazie a un sondaggio che ho fatto proprio con voi, che buona parte dei nuovi arrivati nel mondo delle cripto arriva proprio grazie a queste memecoin. Per questa ragione mi sono sentito in obbligo di trattarle in un video, quello di oggi, nel quale vado a sottolineare 5 cose che devi sapere, preferibilmente prima di comprarle, con l'obiettivo di evitare a più persone possibile di farsi male, proprio perché fa mosse sbagliate, verso queste memecoin. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Cani, gatti, animali di qualsiasi tipo ormai hanno spopolato nel mondo delle cripto. La gara non è più a chi dà il maggior valore fondamentale, ma è a chi fa l'animaletto più carino. Quindi bisogna fare molta attenzione a queste coin, pena il danno economico. Ve lo ripeto, molti nuovi arrivati vedono grandi possibilità di guadagno, vedono la viralità di queste memecoin e ci si tuffano senza neanche ben sapere quello che stanno facendo. E quindi io voglio cercare di farvi capire nel miglior modo possibile che si può sì approcciare queste memecoin con razionalità e perché no poterci anche ottenere un guadagno. Però non bisogna dall'altra parte commettere errori che ci possono costare molto molto cari. La prima cosa che devi sapere è che sono memecoin, lo dice il nome stesso, e quindi sono prive di valore fondamentale. Bitcoin ha creato un sistema monetario decentralizzato, sicuro, disintermediato ed è diventato un asset class. Ethereum ha creato moneta programmabile. Le layer 2 hanno fatto scalare Ethereum, la DeFi crea piattaforme che generano valore. Le memecoin di fatto non creano nulla. Questo non vuole essere un intimare a non comprare, non toccare le memecoin, però non bisogna aspettarsi che dietro alle memecoin ci siano progetti di chissà quale serietà. Sono basate su hype, sono basate sulla viralità e sul fatto che si crei FOMO intorno ad esse. Questa è un'arma a doppio taglio perché se da una parte possono pompare con estrema rapidità, quindi generare quei guadagni di cui poi spesso si fa notizia, chi è che non ha sentito quel ragazzo che ha investito 5000 dollari in Shiba Inu e li ha trasformati in un miliardo a quello che era. È un danno far circolare notizie di questo tipo perché si fa in modo che altri le sentano e si aspettino qualcosa di simile e vadano a cercare qualcosa di simile che non è affatto quello che deve essere l'obiettivo di chi investe in cripto. Non bisogna andare a cercare quella memecoin che farà per mille, o meglio lo si può fare ma con una parte contenuta del proprio portafoglio, altrimenti si rischia che se anziché trovare la coin che aumenta di prezzo, quella coin va a crollare perché come aumentano poi crollano quando l'hype si spegne, allora ci arrecchiamo un grosso danno. E poi il panorama cripto diventa quel settore pieno di ludopatici che non sanno cosa fare, allora buttano i loro soldi in cripto. Non è sempre così, quindi mi raccomando tenete in considerazione che la memecoin non è un investimento a lungo termine. È speculazione pura basata su hype, basata su estrema volatilità e basata sulla viralità del momento, sui tweet di Elon Musk e su cose di questo tipo. Voi ci andreste a basare un investimento? Certo che no, la scommessina con lo 0, qualcosa per cento del proprio portafoglio che se va bene va molto bene e se va male mal che vada ci ho perso poco, allora lì sì che è un ragionamento che ha senso. La seconda cosa che devi sapere è legata alla prima, ovvero queste coin sono volatili. Perché lo sto esplicitando? Perché molti di voi dicono ma io prendo Shiba, poi lo metto nel pool DeFi e lo metto a rendere. Attenzione! Perché c'è uno, impermanent loss legata alla volatilità stessa e due, questa volatilità fa sì che se la coin in questione ti dumpa e spesso fanno movimenti del 10% in un giorno come se non fosse niente la rendita della DeFi in questione ti va praticamente a scomparire. Ci sono adesso anche piattaforme su Kronos che permettono di farmare, di mettere a rendita coin come Shiba, però io vi ricordo che la rendita viene in secondo piano rispetto all'andamento della coin stessa, ovvero non ha nessun senso mettere a rendita una coin che non vorremmo detenere per lungo termine, ad esempio perché non ha valore fondamentale. Quindi pensateci bene prima di farlo perché altrimenti rischiate di farvi del gran male. Numero 3. Il loro comportamento è ciclico. Cosa vuol dire? Vuol dire che come l'hype c'è un periodo in cui salgono e poi un periodo in cui scendono. È naturale, soprattutto se queste coin appunto sono basate unicamente su hype. Durante i cicli positivi sembra che queste coin possano esclusivamente salire. Si sente dire magari dall'Elon Musk di turno che sarà il Dogecoin è la moneta del popolo, sarà la moneta del futuro e la useremo per le Tesla, è una cosa e l'altra. Ma ragazzi è tutta hype, ok? Non ci sono dietro dei fondamentali che si sviluppano e che accrescono il valore del progetto. Inesorabilmente ci sarà la fase decrescente. Quindi questo mi porta a dire che una strategia volendo sensata potrebbe essere che se si vuole andare sempre in ottica di scommessa con il cippino, il cosiddetto cippino da buttare, a buttare appunto qualcosa sulla meme coin di turno su Dojo Shiba, è meglio farlo non quando è in piena hype ma quando non se la fila più nessuno. Perché così magari se poi in futuro dovesse avere un altro spike, la si liquida almeno con un profitto. Quindi la ciclicità è molto importante. Numero 4, stiamo parlando di gambling, quindi la scommessa di poter pompare oppure dampare. Anche questa è una ripetizione di cose già dette ma con un'ottica differente. Perché il gambling si configura in un certo modo. Si configura come prendere capitale destinato a se lo perdo non mi importa, se ci guadagno tanto meglio e allocarlo alla meme coin. Esattamente come faremmo se andassimo a giocare al grattevinci o alla lotteria. Non abbiate l'approccio da investitore, perché l'investitore punta a lungo termine, punta su progetti che hanno una roadmap, hanno cose da fare, hanno valore portato all'utente. Non è il caso delle meme coin. Quindi non ha senso fare discorsi come piani d'accumulo, come strategie di lungo termine. Ha senso fare gambling oppure, se si è trader, utilizzare la sua volatilità, che di fatto è una manna, per impostare dei trade e dei setup ben specifici. Ultima cosa, numero 5. Oltre a Shiba, Doge e le principali più conosciute, ci sono una marea di meme coin. E uno dei mantra è andare a cercare la prossima che farà il boom. Io sinceramente vi disincentivo a fare mosse di questo tipo, perché se già è gambling andare ad approcciare le principali, Shiba, Doge, quelle più hypate, figuratevi cosa può voler dire andare a cercare la prossima. Quindi c'è un nuovo cane, un nuovo gatto, il coccodrillo, il coniglio. Bello, proviamo a prenderle tutte, qualcuna pomperà. Ma che approccio è? Non esiste andare ad approcciare in un modo del genere. Ecco, diventa un casino, diventa ingestibile come situazione. Quindi sinceramente io vi direi di evitare quanto più possibile, se proprio non siete gambler folli che non riuscite a farne a meno, ma anche in quel caso magari evitate ecco di investire perché forse non fa per voi, evitare di andare a cercare la prossima meme coin. Perché se già sono ad altissimo rischio quelle principali, figuratevi le prossime. Magari pompano finché c'è l'hype. Ma fate sempre questo esercizio mentale. Pensate al bear market, quando ci sarà il bear market, quando ci sarà meno hype in generale sul settore cripto. Le cripto in generale ritracceranno, correggeranno. E le meme coin cosa faranno? Sicuramente damperanno tutte quante. Le prossime meme coin scompariranno completamente dalla circolazione. Quindi vi chiedo di fare molta attenzione e molta cautela. Cosa ne pensate di quanto detto finora? Il vostro approccio verso le meme coin qual è? Sono curioso. Condividetemelo nei commenti che così ci confrontiamo. Io vi ricordo un'altra volta, mi raccomando, non è un investimento. È molto volatile, dipende dall'hype, è fortemente ciclico, è gambling come operatività e soprattutto attenzione a cercare la prossima meme coin che lì è veramente un pescare il numero dell'otto. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!